ciao ragazzi devo stare un po' attento perché passano macchine allora stavo pensando a un pensiero bellissimo che mi ha attraversato la coscienza e cioè l'atteggiamento del devoto dell'amante di dio che vive immerso in questa preghiera del cuore aiutami ad amarti sempre di più sempre più perfettamente non per me perché voglio immergermi nella tua coscienza infinita e quindi questo amore aiutami signora ad amarti sempre di più signore inteso come coscienza infinita dio ecco questo l'atteggiamento secondo me del devoto aiutami ad amarti sempre più perfettamente aiutami a immergermi nella tua coscienza infinita come gesù come i maestri come i grandi santi aiutami a raggiungerti aiutami ad amarti di più aiutami a sviluppare questa devozione e questo è l'atteggiamento del devoto e mi ha attraversato questo pensiero e lo volevo condividere con voi di amore per dio e per il divino ciao ragazzi